Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Sperare nella misericordia. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Non bisogna disperare se le cose vanno male, se la vita porgerà a noi il peggio senza sosta e con svariati guai. Non dobbiamo essere tristi perché dobbiamo sempre essere positivi e pensare che il presagio potrebbe andarsene via e quindi sperare nella misericordia, essere quindi illuminati in seguito e quindi ricevere cose positive e una vita più bella e speranzosa. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Sperare nella misericordia. Non disperate se va male e se la vita porga a voi il peggio senza sosta e regole e vi offra svariati guai. Non siate tristi se la vita sia per voi un disagio. Ogni tristezza vi doni la stima per comprendere ogni presagio. Sperate nella misericordia e sarete davvero illuminati da un futuro ricco di concordia e dalle buone opere e veri progetti. Sperate nel buon Dio, la misericordia arriva da Lui e da ogni suo disegno la gioviale speranza per i figli. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.